E' arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitre, una vittoria nettissima, con gli attaccanti ovviamente che sono stati splendidi nel concretizzare le occasioni da gol. E tu cosa ne pensi della partita Luca? Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali, e grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. E' finito il tempo a nostra disposizione, un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre a mio fianco. E' stato un grande piacere! Grazie 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 Grazie